È una partita difficile, come hai detto tu. Probabilmente non la più difficile, perché a Bari abbiamo sofferto maggiormente. L'ora setto tattico, sì, nel 3-5-2, che poi diventava un 5-3-2, perché il loro atteggiamento era un po' attendista nei nostri confronti. Infatti è molto difficile trovare sviluppi di gioco quando incontro una squadra che ha il baricentro così basso. Mi aspettavo una squadra forte e abbiamo trovato una squadra forte. Ero un po' preoccupato all'inizio della partita, perché poi stamattina con la comunicazione dei due ragazzi positivi non è stato facile mantenere alta la concentrazione. Quindi i ragazzi sono stati bravi, perché era una partita con molti ostacoli all'interno della stessa partita. Mi fa piacere, mi fa enormemente piacere. Io cerco di non prendere… sono i ragazzi, il merito va tutto ai ragazzi, perché in campo ci stanno mettendo l'anima. Quindi io cerco sempre di rimanere un po' defilato, perché vedere una squadra correre in questa maniera e aiutarsi l'un per l'altro è bello, è importante. Quindi la scena era loro. I complimenti fanno piacere. Oggi sono andato sotto i distinti, perché è l'ultima partita che faremo con il pubblico. E questo dispiace molto, perché al gol di Harry ho sentito un boato e erano in pochi. Nel senso che per il fatto del coronavirus la capienza era limitata. Credo che questo stadio, quando si anima di entusiasmo, non so al gol cosa possa succedere. Quindi dispiace molto. Non era facile e significa che la mentalità c'è. Che la mentalità c'è. Io credo che si possa sempre migliorare. Però questa squadra sta dimostrando di avere carattere, anche nelle difficoltà, anche negli ostacoli. Cerca davanti all'ostacolo, cerca di non trovare la scusa. Cerca davanti all'ostacolo di non giustificare una mancata prestazione trovando una scusa. Oggi magari era plausibile trovare una scusa. Invece questa cosa del non cercare alibi sta entrando dentro i giocatori. E credo che quella sia la chiave perché con l'umiltà giusta si può migliorare. Con la presunzione non si va da nessuna parte ma perché non migliori? Invece noi vogliamo migliorare. Possiamo migliorare. Questa squadra ha tanto ancora da dare. Allora parto da K dicendo che ha giocato perché meritava questa opportunità. È un giocatore importante per noi. È un giovane. Oggi alla fine della partita eravamo cinque giovani dentro alla squadra titolare. E quindi questo dà veramente piacere, giocare con tutti questi ragazzi giovani perché hanno un grande futuro secondo me. Quindi ha giocato perché se lo meritava di giocare. Mimmo aveva sbagliato qualche palla e non ci sta nel senso che lui vuole sempre determinare con le sue giocate. Non è sempre facile. Secondo me quando ha abbassato un po' la velocità, l'acceleratore, cercando un po' di più la semplicità, ha iniziato a trovare le sue giocate che poi hanno fatto la differenza. Esulto quando Mimmo vince un contrasto, sinceramente. Non esulto quando fa la giocata, ma quando vince un contrasto esulto, esulto. Io mi piace, al gol di Arregone è esultato tantissimo, ma esulto maggiormente quando vedo contrasti vinti rispetto a Mimmo.